Vediamo quello che decide, intanto secondo me le cose sono state già fatte. Dopo 2000 anni di storia che c'è qui nel paese, sai, trovarsi così all'improvviso è come dare una cortellata a una persona. Eventualmente noi, io, con la mia famiglia eravamo in montagna, in Val di Farsa, quando l'abbiamo saputo, dietro la giornalista che ha chiamato mio cognato. Siamo rimasti così. Io penso che sia da volutare quello che succede dopo, perché non si ritorna dopo indietro. Dopo non si ritorna. Siete preoccupati, però come la vivete? Che ci cambia tanto la vita a noi, cosa ci cambia? Però dispiace perché siamo autonomi. Ecco, quindi questo è quello che vi dispiace di più, perdere un po' l'autonomia? È logico. Sono passi che con calma e con intelligenza bisogna fare, perché tanto la storia va avanti. Non dimenticando le radici. Questa è una cosa fondamentale. E non passando sopra alla nostra storia. Ci sono tre punti, la scuola, l'ospedale, il ricovero. Sono tre punti che qualificano un baroccio. Queste sono cose che non si può... In musei, ma sì, ma queste qui sono proprio di vita, perché ci lavora la gente dentro. E queste non si possono passare sotto silenzio. Allora, nella fusione che tanto si andrà a fare, perché la vita va avanti, bisogna che queste cose vengano salvaguardate, secondo il mio punto di vista. Per me è stata veramente una sorpresa, ma grossa. Ma non una sorpresa bella, una sorpresa brutta, perché per un monbaroccese come me, che ha 70 anni, che è nato e è cresciuto a Monbaroccio, dispiace. La fusione si farà, si vedrà. Andremo meglio, andremo peggio. Io ho parlato anche ieri con cittadini di Candelare, Novilare e Via, per motivi di lavoro come Proloche e Via. E non è che sono tanto felici. Allora io dico, perché arrivare a questo punto e diffondersi proprio tic-tac? Dalla mattina alla sera, io da questo consigliere comunale, dico, ma voi dalla sera avete pensato alla notte e al mattino, ditole ai cittadini, adesso lo stiamo facendo. Difatti hanno cominciato a buttare fuori i volantini e così è andato avanti. Cioè l'opinione pubblica l'ha imparato da persone, diciamo altrui, al di fuori dall'amministrazione comunale. È vergognoso secondo me. Noi abbiamo parlato con Ginestreto, Novilare e Candelara. Noi ha detto non comandiamo niente. Quelli che comandano sono soltanto quelli di Pesaro. Quindi allora per quale motivo noi dobbiamo fare questa fusione? Perché loro ritroveranno i soldi, ma i soldi che c'erano? Dove sono andate a finire? Io faccio parte del gruppo di minoranza, rappresentato da Massimo Muratori. Fondamentalmente noi non siamo contrari a priori a questa fusione, ma alle sue modalità principalmente. Perché fondamentalmente chiediamo due cose. La prima è l'elezione di tutte le cariche che dovranno essere ricoperte poi a Pesaro. Perché chiediamo che siano i monbarocesi a decidere chi poi li andrà a rappresentare nel nuovo comune, tra virgolette. La seconda cosa è il referendum, ossia che se in questo referendum dovesse vincere il No a Monbaroccio, chiediamo che i due consigli ritirino le richieste di fusione. E se queste due cose non verranno accettate questa sera, i nostri rappresentanti lasceranno il consiglio in segno di protesta. La fusione in sé può anche essere un beneficio, ma chi ce l'ha spiegato? Chi ce l'ha detto qualcosa? Nessuno. Purtroppo questi amministratori hanno dimostrato arroganza, come in quest'anno e mezzo di gestione del comune. È un peccato perché i monbarocesi meritano di più.